Grazie 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 un porco di siena cappella e almeno da un 1 o 2 campe costate per mille mesi un archetico di carte che si può saltare quando viene disperso bene tu come lo sapevi sono gentili almeno troppo bene se lo supporta qui ci si metto lo usbra se sta cosa inizialmente Grazie. 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 Dai. Ehi. Di hayZoB! OK. investissement. Av Occhino. Dovrai! Seguidito il meter ove. Si sehe dai . Ah, si. Levone! Non 되iscono ilchio nel fondo once. Verone! No! Ogni viene! ...wap! Si! Grazie. 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 Guarda che carini che sono. Nessuno che ti ha. No. Ci sta. Grazie. 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 Sì, perché è l'unico. Quando è quello che ti specia nel tuo rumbo? Ah, no. Sì, perché è l'unico. 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 E' l'unico. E' l'unico. Sì, perché è l'unico. E' 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 l'unico. Sì, ma ci seguiamo. Già c'è. Già. Questo? Questo. Chi? Attacca a mano. Non si spacca, non si spacca, non si spacca. E non si attiva perché deve risolvere ancora la modifica. Se sto risolvendo una cosa, se ce ne è una cosa, mi state fermi e aspettate. Si è scritto 6 mesi che quando? Una carta vasta, quando lui spacca, se spacca, è ora. E se non lo viene distrutto, dov'è che si dovrebbe attaccare sull'unità? E deve ancora risolvere quell'altro. Deve chiamare la mano di ghiaccio, sull'entrata della mano di ghiaccio, che non è che entra per se stessa, è che entra per la mano di fuoco. Questa è successa, non è quando, è se stessa. Perché il testo è nuovo, è il terreno nel cimitero. Perché non è una cosa, è una divenza. Sì, per questo senso qui, perché anche il Giorgigan, è il Giorgigan per me. E quando questa carta, se questa carta è distrutta, è un po' un altro. Il Giorgigan per me è il Giorgigan, è il Giorgigan. Pioi, non pagate la minchia, devo risolvere i miei problemi in atto. Quando si è andata la minchia? Quando? Se no, altri esempi. Sì, è più che quando. Sì, è quando qualcosa che succede. Il Giorgigan per me è il Giorgigan, 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 è il Giorgigan. Non ha perso le idee per dire tempo, perché è una persettiva proprio... Lo sento perfetto? No, di prossimo. Ma tanto non ti cambiano amiche. Oh Dio. Allora, che è il Giorgigan? Io anche, ma insomma, era meglio se non lo so. E allora, devi andare a capo. E allora, devi andare a capo. E allora, che è il Giorgigan? Grazie. 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 grazie 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 Non puoi dire, dai. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.